Nella provincia di Salerno sono nuovamente zero i casi di Covid-19 registrati nella giornata di ieri. Sono stati 518 i tamponi analizzati dai laboratori del Ruggi e di Eboli relativi ai soli residenti nella provincia e sono risultati tutti negativi. Segnali positivi anche dal Vallo di Diano dove continua lo screening di massa su tutto il territorio. Screening che fino ad ora, su una grande mole di esami, hanno portato a un solo nuovo contagio rilevato a Polla. Nel Cilento la situazione resta stazionaria in attesa della guarigione dei pochi casi rimanenti sul territorio cilentano, ovvero 7 positivi ad Agropoli, 3 a Casalvelino, 1 a Vibonati, 6 a Cilento, Laurino e San Mauro Labruca.